Si parla di sicurezza, balza subito agli occhi un capo che è il casco, è verissimo perché protegge la testa, ma in realtà noi sappiamo che per quanto sia importante non esiste solo la testa, perché sicurezza significa anche indossare dei capi che valgono tanto quanto se non di più il casco, vero Mauro? Si è vero, il paraschieno, il back protector come viene chiamato, è importante quanto il casco perché con l'uso del casco gli incidenti mortali sono calati del 65% e del rimanente 35% si parla di paraschiena, quindi voi capite quanto sia importante il paraschiena, tanto che i media e l'informazione del settore come motociclismo ad esempio ha fatto una campagna che è durata 4 mesi per proporre addirittura il paraschieno obbligatorio, cosa che io farei, ma non solo per un mio interesse economico Paolo o quello del settore, proprio perché essendo da tantissimi anni, 28, che facciamo questo settore, veramente il paraschiena per non andare oltre vi garantisco che è una cosa molto importante e fra l'altro la spesa è anche accessibile. In questo caso Paolo, lassù si sta inquadrando due paraschiena, cominciamo da questo della Dainese che finalmente è a livello 2, spiego proprio velocemente cosa significa livello 2. Il livello 1, come è stato fatto fino all'anno scorso, veniva provato solo nella parte centrale, quindi quello che proteggeva la colonna vertebrale, il resto non era importante. Adesso invece con il livello 2, oltre a tre punti della parte centrale, vengono provati altri tre punti laterali a caso, quindi tutto ciò che ha a che fare con il paraschiena deve essere tutto protettivo, cioè in sostanza tu tutto quello che vedi qui, come sta inquadrando lo Susi, in questo caso Dainese ha voluto coprire anche le scapole, questo è tutto livello 2. Livello 2 vuol dire che, adesso cerco di spiegarlo in termini brevi e comprensibile a tutti, la forza che viene trasmessa qua sopra deve essere estremamente attutita per andare poi nella schiena del motociclista. Quindi questo che viene chiamato il 3.7 della Trionic, il più sicuro al mondo fra l'altro, usato anche dalla nazionale austriaca in discesa libera nello sci, 3.7 vuol dire che ci sono 3.7 kg che vengono trasmessi nel massimo della potenza sul motociclista, quindi vuol dire che ripara a dei livelli impensabili, ci può passare un camion in sostanza, ecco tanto per dirvi cosa significa. Anche qui come vedi è molto largo in vicinanza delle spalle nel punto delle costole per assottigliarsi fino quasi al coccige. In questo caso parliamo della Trionic che l'abbiamo già detto, tieni presente che in questo caso oltre ad avere una gamma incredibile di protezioni come Dainese è del resto, in questo caso vi facciamo vedere che viene chiamato veste, è un gilet in sostanza per tenere più a contatto della pelle il paraschiena con delle protezioni anche davanti, traspirante e quindi diciamo che quando è sotto la schiena questo sta più fermo e quindi dà più sicurezza. Anche qui Paolo concludo dicendoti che abbiamo una gamma incredibile, è veramente un prodotto molto 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 molto. Start of the run Start of the run Can't stop